Due giorni dedicati all'incidenza delle infiammazioni e dell'inquinamento sulle psicopatologie, sulla necessità di sinergia tra medicina, psicologia, psicoterapia e le altre discipline scientifiche che si occupano della persona umana attraverso un punto di vista olistico. Sono i temi che sono stati trattati al centro del IV Congresso Internazionale di Neofunzionalismo, evento che si è svolto presso l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici Palazzo Serra di Cassano, aperto dal professor Luciano Rispoli, presidente del Congresso. La salute va affrontata in maniera complessiva e complessa e non settorialmente, quindi non con la medicina separata dalla psicologia, separata dalla prevenzione, e deve essere un network, dobbiamo agire in maniera sinergica perché abbiamo visto che con situazioni che possono presentarsi come quella appunto della pandemia o del problema della guerra o del problema anche della precarietà del pianeta, che viene sentito molto dai nostri giovani, noi siamo vissuti, io sono vissuto in un momento in cui il pianeta non aveva assolutamente pericolo, non correva pericolo, quindi tutto questo sicuramente influisce ulteriormente, ma ulteriormente, allora è un campanello d'allarme che ci dice interveniamo, interveniamo in maniera efficace, profonda, non superficiale, non tamponando, ma andando alla radice dei problemi per poter ridare salute e benessere ai bambini, alle bambine, ai giovani, ma anche a tutti gli altri perché siamo tutti quanti coinvolti in un discorso di poter ritornare a un vero benessere, una vera salute. A supportare il congresso anche la regione Campania, l'evento ha preso parte l'assessore alla formazione Armida Filippelli. Quanto noi vediamo iniziative che studiano i comportamenti, che vogliono dare una mano a tanti ragazzi in difficoltà, perché la pandemia, la guerra ci ha restituiti a un sentimento di insicurezza, e poiché viviamo anche momenti in cui, diciamo, l'internet, i social amplificano le fragilità dei ragazzi, abbiamo l'intelligenza artificiale che sempre di più entra nella nostra vita e quindi noi dobbiamo governarla e aiutare i ragazzi a capire il mondo come va, a vincere le sfide del futuro, ecco che tutto quello che si muove in questo campo per rafforzare, per conoscere, per curare, ecco, questo ci interessa molto.